Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è formazione. L'85 per cento delle aziende ritiene molto importante fare formazione in azienda in aggiunta a quella obbligatoria prevista dalla legge. E quanto emerge? In un'indagine portata avanti dalla società milanese agility. L'investimento maggiore fatto oggi dagli aziende è rivolto alle hard skills cioè alle competenze tecniche. Dunque benvenga alla formazione perché come diciamo noi di buon lavoro chi si forma non si ferma. La seconda parola chiave della settimana è carriera. Complimenti a Carlotta Ventura neopresidente di AMSA, l'azienda milanese di servizi ambientali. Benvengano le donne in posizioni apicali e Milano dà il buon esempio. La terza e ultima parola chiave della settimana è conciliazione. Regola ferrea. Dopo le 17.30 non si mandano più email di lavoro. È quanto accade a ABL, una società nata a Torino e che si occupa di software gestionali. Benessere dunque per tutti a partire dall'armonia tra ritmi di lavoro e ritmi della vita privata. Buon lavoro a tutti!